Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Con grandissimo ed immenso piacere oggi vi presento Kingdom Hearts nella variante Talisman, un gioco in edizione italiana a cura di Asmo d'Italia che come al solito e come sempre ringrazio immensamente per la copia fornita e per essere più di due anni insomma che collaboriamo. In questo video di oggi vi farò l'unboxing, è solo l'unboxing, quindi il cosa ne penso uscirà a giorni. L'unboxing di Talisman Kingdom Hearts mostrandovi tutti quanti i contenuti di questo gioco da tavolo che riprende un videogioco famosissimo che tutti conosciamo che sono le avventure di Sora e dei personaggi della Disney ma non solo, in una saga videoludica che ha seguito varie console e quindi è stata una saga che non è stata semplicissima da seguire perché magari da un titolo a un altro ci siamo spostati da PlayStation 2 a PlayStation 3 o anche console portatili adesso raggruppata in vendita per PC in HD in altissima definizione direttamente sul sito di Epic Store quindi andate direttamente laggiù e lo potete comprare il videogioco anche per PC vi parlo a breve dell'unboxing, vi faccio vedere un po' cosa c'è all'interno dopo la sigla confezione del gioco bella grande col disegno, con Sora e tutti quanti i personaggi guardate la scatola come è grossa ma come tutte le confezioni di Talisman perché sono ricche, ricche di contenuto e permettetemi di aprire una piccola parentesi che facciano un sistema universale per Talisman con tante ambientazioni è una figata disumana ed è una bellissima idea perché è un sistema che si presta bene a tutto e a breve vedremo anche la variante Harry Potter contro i Mangiamorte che non vedo veramente l'ora apriamo il regolamento che fondamentalmente dateci una lettura perché ovviamente ci sono dei token e delle cose in più ogni variante di Talisman le ha però è il normalissimo regolamento di un Talisman quindi se avete giocato al Talisman base potrete giocare anche a questo e le differenze a parte a livello di icone saranno veramente poche quindi è un regolamento facile ben illustrato, ben tradotto e si legge veramente in 20 minuti tabellone di gioco che ora vi faccio vedere a fine tutto quanto aperto token e segnapunti che sono fondamentalmente un piccolo orologio per la forza, la magia e la salute come in un normalissimo Talisman e dovrete andarli a girare semplicemente per quando la vostra forza salirà o scenderà e lo stesso magia e salute e poi i personaggi più famosi che vediamo qui dentro ci sono Sora tutti gli altri personaggi della saga videoludica e addirittura qui vediamo Re Topolino da parte veramente bellino e qui c'è Paperino e ci dovrebbe essere anche Pippo da qualche parte e qua giù invece vediamo la miniatura di Mulan sempre personaggi ovviamente della Disney o comunque Sony o Disney ecco qui il grandissimo onorevole e grande combattente Paolino Paperino poi in mezzo ai componenti qua giù abbiamo i dadi perché vi ricordo che sul tabellone di gioco ci si muove tirando il D6 e muovendosi di quelle caselle in senso orario o anti-orario però non si può interrompere e invertire il senso di marcia abbiamo un pochino di segnapunti che vanno poi attaccati come vi ho detto a questi qua per fare l'orologino dove ci sono forza, magia e salute tutte quante le caratteristiche mazzi di carte che sono poi fondamentalmente carte equipaggiamento carte incontro carte tipo alleati ad esempio Chip e Chop tutti quanti i personaggi della Disney e carte oggetto generale e di equipaggiamento generale come ad esempio la Gummi Ship che sarebbe la nave che ci consente di spostarci dalla plancia esterna a quella interna una specie di ponte nel classico talisman se vi ricordate quello difeso dalla statua gigante e tutte quante le carte dei personaggi e anche dei nemici che andremo ad affrontare ad esempio i più iconici di tutta la saga di Kingdom Hearts che sono gli Heartless e tutto quanto il tabellone di gioco sempre bellissimo e dettagliato dove vi ricordo che a livello di regole quando finite dentro una casella se c'è già un nemico lo dovete combattere se c'è già un evento in atto lo dovete fare o se no se non c'è niente arrivate leggete direttamente la descrizione sulla tabella e fate quello che c'è scritto nel caso ci fossero da pescare una o più carte prendete queste carte dal punto degli incontri e ce le andate a mettere sopra che potrebbero essere nemici o equipaggiamento classico tabellone uguale spiccicato veramente nel classico giro di talisman zona esterna da cui si parte internamente zona interna che dovrete raggiungere con la Gummi Ship e cerchio più interno di tutti dove non si tirerà più il dado per muoversi ma ci si muoverà soltanto di una casella in direzione oraria o anti-oraria fino ad arrivare al centro ragazzi questo era il contenuto di Talisman Kingdom Hearts e come avete visto è veramente veramente ricco di roba per un regolamento che come vi ho detto è di una semplicità disarmante e letto talisman base dateci una lettura veloce e siete pronti per giocare seguirà il cosa ne pensa giorni fatemi un po' sapere cosa ne pensate vi ricordo che se lo volete ordinare dal nostro negozio sponsor gioco libreria Simola al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori a 79 euro spese postali gratuite in 48 ore in tutta Europa quindi link in descrizione e primo link in sovraimpressione come state vedendo andate a vedere nel nostro negozio sponsor e come avete visto contenuto ce n'è veramente tanto e una cosa bella di talisman è che è sempre in tutte le sue versioni ricco pieno zeppo di miniature ciao ragazzi alla prossima